TARZAN 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 Tio spaventata mamma Oh non c'è dubbio Non puoi imitare animali meno rumorosi Oh mamma non mi diverto Vuoi vedermi fare il leopardo? Perché non ti inventi un verso tutto tuo? Con questi cuccioli bisogna avere pazienza Cala! Ops TARZAN Oh grazie a cielo stai bene Cala io eravamo così preoccupate Grazie Grazie di cuore per averlo trovato Kerchak sei un capo saggio e premuroso Skappa Oh Ehi TARZAN Le banane sono buone e fanno bene Se stai perdendo le forze mangia qualcuna per recuperare energia Così va meglio Ah così va meglio Ehi TARZAN Ehi TARZAN Ehi TARZAN Ehi TARZAN Farfalla Se finisci nei guai e perdi tutte le forze Puoi tornare all'ultima farfalla incontrata E ricominciare da capo Ah così va meglio Ehi TARZAN Ehi Amico Guarda i camaleonti Hanno un sistema incredibile per arrampicarsi Dai avanti Prova Grazie Prova ah, così va meglio ehi Turk T come Turk, ma in realtà il gioco è su di te e perciò se troverai le lettere T, A, R, Z, A e N avrai un oggetto in premio provo comunque che Tarzan è strano forte come lui preso ehi Turk Tarzan, provati a avere dei frutti a quei vecchi babbuini antipatici li colpisci bene così ce li togliamo dai piedi per sempre ah, così va meglio preso ah, così va meglio ehi Turk wow Tarzan, guarda quante cose belle su quest'albero prova ad arrampicarti, non dovresti avere problemi questo mi sarà utile yeah preso ehi Turk ciao Tarzan ciao Tarzan vedi questa figura? ce ne sono quattro nascoste in ogni livello se riuscirai a trovarle tutte quattro potrai esplorare un livello segreto ah, così va meglio ah, così va meglio ah, così va meglio ah, così va meglio preso preso Sì preso Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti